e dice oh devo andare via andiamo fuori no usciamo e dove me lo metto questo panino qua no allora provo allora mi giro e trovo la scatola quella dei cd quella sede cd vergini che hanno questo questo aspetto si può trasformare se togliamo tutti i cd e poi la trasformiamo in un porta panino guardate tolgo questo spezzo questo punto qua interno metto il mio panino magari mettiamo anche la cosa qua dentro lo chiudiamo e automaticamente ce ne andiamo via con il nostro porta cd panino e allora con un apri scatole vediamo se mi riesce dovremmo riuscire invece ad aprire la nostra confezione no con l'apri scatto si sta un pochino aprendo si dovrei farcela vediamo se è vero se ha funzionato la nostra tecnica abbastanza adesso bisogna aprire non guardare